Mi si era detto da Stelli che è stata la vittoria dei singoli. No, per me non dei singoli. La squadra secondo me ha giocato bene, ha molto bene. Primo gol ok, secondo gol secondo me è da rivedere per come è venuto. I ragazzi sono stati bravi, hanno creato tantissime situazioni o di occasioni di tiro in porta o tante situazioni dove magari abbiamo sbagliato o l'ultimo passaggio o l'assist o la scelta finale. Però abbiamo creato tanto. Detto questo abbiamo anche, o meglio, Lavellino è stato bravo a creare anche. Ma Lavellino, io ho detto ieri, è un'ottima squadra, non era prima per caso. Io dico che essere riuscito a fare quattro gol a una squadra come Lavellino è un segnale importante perché non è una squadra che prenderà spesso quattro gol in una partita. Un po' di appressione, sì, 2-1, 3-2, ma questo significa quella squadra? Sì, anche se quando si è bravi a andare sul doppio vantaggio, l'avversario deve avere più difficoltà a rientrare in partita. Mentre noi li abbiamo fatti rientrare un po' troppo facilmente. Questa è una cosa che dovremo migliorare, ma ci lavoriamo e migliorerà.